ArredaTips vedete una libreria in questa foto molto semplice che però può essere personalizzata a livelli veramente altissimi la prima funzione, contesto di utilizzo che vediamo è quello standard, canonico del soggiorno una libreria posta nel soggiorno di casa che si sviluppa in altezza e in larghezza a seconda della parete che si ha a disposizione e che ha una funzione prettamente espositiva e continuativa quindi libri, dischi, soprammobili è tutto quello che vi viene in mente e che chiaramente volete esporre nella vostra libreria qui il fattore di personalizzazione, oltre chiaramente alle dimensioni è fondato sui colori nel caso specifico infatti la libreria Almond presenta un campionario di colori di finiture laccate, chiaramente io vi consiglio un laccato per il soggiorno veramente ampio abbiamo tutte le sfumature del giallo fino ad arrivare al rosso il fucsia, il viola le sfumature dall'azzurro al blu del verde, del verde chiaro, verde scuro e poi i colori più neutri come il grigio e chiaramente il bianco nel mio caso specifico tra l'altro io in soggiorno ho una bella libreria laccato opaca bianco il grado di personalizzazione si basa poi sul gioco che si può fare tra i colori della libreria e gli accessori che vengono utilizzati ad esempio in questa foto vediamo una libreria Almond in laminato frassino con ante e cassetti laccato verde bosco quindi l'utilizzo di accessori oltre ad avere una funzione estetica e quindi a creare fantasie differenti può avere anche una funzione chiaramente prettamente diciamo concreta e funzionale cioè come in questo caso qua abbiamo una libreria con vanni a giorno e con tre vanni coperti chiusi da ante e ribalta in vetro trasparente che mostrano quello che viene contenuto ovvero un servizio da tè dei bicchieri in cristallo ma allo stesso tempo lo proteggono per esempio dalla polvere cosa molto importante soprattutto se siete mamme, casalinghe, mogli eccetera per farvi vedere l'alto grado compositivo di questo tipo di libreria utilizzo questa foto qui vediamo una libreria composta da moduli di differenti larghezze che vanno a comporre una composizione del tutto asimmetrica in cui poi abbiamo anche un gioco oltre che di forme anche di colori in quanto abbiamo solo uno schienale a sinistra color laccato mango e tutti gli altri invece schienali della composizione sono bianchi poi abbiamo un altro contrasto che si viene a creare tra cassetti laccati mango e le ante battenti invece laccate antracite inoltre abbiamo anche un gioco di differenti misure di vanni proprio grazie ai ripiani che possono essere posti ad altezze differenti praticamente a nostro piacimento e così si viene a creare una composizione particolarmente personalizzata e anche particolarmente bella abbiamo poi una funzione d'ingresso quindi libreria poste in corridoio in questo caso chiaramente si svilupperà più in altezza che in larghezza come vediamo in questa foto ma non è detto abbiamo infatti anche la versione della nostra libreria Almond in versione low quindi con altezze più basse anche qui ottime per gli ingressi oppure anche per essere poste retro divano quindi qua vediamo un soggiorno in cui la libreria è posta sia appunto in ingresso ma sia appunto retro divano quindi più che di una libreria parliamo di un mobile contenitore in questo caso alto 76 cm che oltre alla funzione espositiva e contenitiva offre anche un piano d'appoggio su cui appunto possono essere apposate come vediamo qua delle piante ma anche magari il telefono di casa io per esempio in casa mia ci appoggio il modem che così in soggiorno il segnale mi va a mille e gioco benissimo online queste sono funzioni canoniche diciamo passiamo a una invece che vi potrebbe sorprendere per così dire anche se so che non vi fate sorprendere dalla prima cosa che vi passa sotto gli occhi in questo caso abbiamo una libreria Almond low alta 1,12 m che viene posta in un locale lavanderia quindi fondamentalmente un mobile contenitore che contiene panni che devono essere stirati che sono stati lavati detersivi tutto quello che serve in un locale lavanderia eventualmente anche medicinali magari il kit da cucito e quant'altro in questo caso abbiamo scelto non a caso come finitura un laminato io qui ho due esempi tra l'altro di laminato che questo è il laminato in rovere bianco invece questo è il laminato M-Lock sempre della libreria Almond proprio perché data la loro texture diciamo non perfettamente liscia ma un po' ruvida e scavata per via dell'effetto legno permette proprio di essere perfetta per per l'utilizzo che se ne deve fare fondamentalmente questo è un mobile che deve essere utilizzato un mobile diciamo che che va vissuto non è una libreria ad esposizione che viene posta in soggiorno di conseguenza un laminato reagisce molto meglio alle sollecitazioni eventuali rispetto ad un laccato inoltre tra l'altro da non sottovalutare c'è anche l'aspetto economico del tutto che di questo tempo poi tra l'altro diventa un fattore importante di scelta per quanto riguarda l'arredamento e non solo detto questo passiamo alla altri tipi di composizione di librerie che sono quelle a ponte e quelle angolari quella a ponte ottima per esempio per camerette sotto cui ponte si possono piazzare per esempio scrivanie oppure come vediamo in questo schema possono essere anche poste in camera da letto con sotto il ponte un bel letto oppure in salotto con il divano dopodiché se invece in soggiorno avete una parete diciamo due pareti particolarmente sfruttabili questa libreria si possono dar vita anche a composizioni particolarmente importanti come questa in cui abbiamo un'antascorrevole e anche una scrivania a penisola sempre della serie Almond che viene attaccata alla libreria dando vita quindi a un angolino studio detto questo passiamo invece ad analizzare un altro contesto d'uso di questa libreria di questo tipo di librerie non in particolare della libreria Almond che è l'uso che viene fatto grazie alla finitura bifacciale quindi libreria che diventa anche divisore d'ambienti in questo caso posta in ingresso divide l'ingresso dal resto del salotto allo stesso tempo ci possiamo mettere i nostri libri ed appoggiare anche dato che in questo caso è stata scelta una versione low una versione bassa appoggiare eventuali soprammobili o telefoni e quant'altro qui invece vediamo un nuovo contesto d'uso che potrebbe sorprendere ovvero un mobile contenitore Almond che viene posto sempre bifacciale che viene posto a dividere una cucina vista dal resto della sala da pranzo quindi più che una libreria anche qui abbiamo un mobile particolarmente funzionale che diventa oltre che diciamo un contenitore ci potete mettere dentro per esempio le ricette o la tovaglia i tovaglioli le posate i piatti anche diventa un piano d'appoggio un ulteriore piano d'appoggio oltre a quello standard della cucina che vi può essere particolarmente utile per esempio lì c'è appoggiato sopra un vassoio con le tazze e il caffè ottimo detto questo passiamo all'ultima l'ultimo contesto d'uso che voglio presentarvi che è quello dell'ufficio andiamo nella scheda della scrivania Almond chiaramente anche essa ottima da mettere in ufficio e vediamo qui una serie di Almond Low in finitura laminato posti in un ufficio che oltre la classica funzione contenitiva e il piano d'appoggio dividono l'ambiente dell'ufficio separando l'ingresso dalla parte operativa stesso tipo di situazione ma una differenza differente scelta estetica in questo caso abbiamo una libreria alta quindi con più vani quindi che separa ancora meglio l'ambiente in cui sono stati poi usati degli accessori in questo caso dei cassettoni che adibiscono con funzione poi di raccoglitore degli schedari fondamentalmente la finitura in questo caso invece è stata scelta è stata scelta laccata queste quindi sono solamente alcune dei possibili usi di una libreria altamente versatile come questa come quella di una libreria a spalla ve ne possono venire in mente molte altre ce ne sono sicuramente molte altre e qui sta anche un po' poi alla alla vostra creatività e alle vostre scelte in fatto di arredamento chiaramente trovare nuove funzioni per questo tipo di libreria provate eventualmente magari a dare un occhio anche al nostro catalogo per fare venire in mente qualche idea per adesso vi ho asciugato abbastanza vi saluto e vi lascio diciamo vi do appuntamento a settimana prossima con un'altra puntata di Arredatis perché adesso partiamo a bomba facciamo una settimana una puntata a settimana e probabilmente la prossima volta c'è anche la mia collega Eleonora che per il pubblico maschile è sempre un bel vedere ciao a tutti